bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video di minecraft io sono maullo941 e oggi riprenderemo la costruzione del mob spawner prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate sempre alla serie non so come stanno andando questi episodi perchè li sto registrando di seguito quindi non so bene se vi stanno piacendo oppure no però che dirvi, io vi ringrazio sempre, a prescindere allora signori, portiamoci tutti quanti i blocchi, cosa possiamo lasciare? lasciamo questo slab che fondamentalmente in teoria non dovrebbe servirci saliamo sopra, qui ho chiuso questa parte di qua del condotto così dovremmo essere un po' più tranquilli saliamo sopra, facciamo saliscendi velocemente mettendo l'acqua così vediamo se il trucchetto dell'acqua funziona quindi dovrei mettere uno di acqua qui qui e uno di acqua qui e lui in teoria dovrebbe arrivare preciso preciso lì perfetto signori allora il problema è che lo devo fare per tutti gli altri lati quindi lo faccio off camera anzi facciamo una cosa ora in teoria io dovrei a questo punto salire di due qua giusto uno salire no, no di due scherzavo saliamo di uno così facciamo tutto quanto questo giro di qua così dopo di che così carino e coccoloso andiamo a mettere l'acqua da tutti da tutti i lati da tutti i lati e poi continuiamo con la costruzione reale della struttura perché poi dovremo andare a fare tutti i muri laterali e anche il come cazzo lo sia e anche il tetto riusciremo a fare tutto in questo video signori non lo so non lo so non ne sono sicuro ci proveremo vedremo perché poi appena annoia anche a me penso che a voi già sia annoiato da mezz'ora quindi con calma e sangue freddo piano piano che tanto nessuno non ci ammazza nessuno ok ora fatto questo andiamo a recuperare gli altri blocchetti d'acqua però se mi lancio di qui rischio di morire male ecco mamma mia che stavo morendo malissimo tre quali e mese stavo perdendo tutto signori proprio quando si dice la suspense è successo quello che non volevo che successe però va bene allora coi dovrebbe esserci intanto della carne dio si è ringraziato che possiamo tornare a mangiare mangia velocemente non mette le torce a casa ok riempiamo questi secchielli e signori oh signori si è riempito la lava no scherzavo pensavo se fosse riempito il calderone e la lava di sopra ma vaffanculo va allora signori riempiamo i secchielli di acqua e continuiamo a fare questo gioco per tutti e quattro i lati questa ve la taglio signori a meno che non muoio male cadendo ma questa parte ve la taglio promesso questa parte è tagliata è tagliata ok signori ho fatto questa ho levato la scaletta di la scaletta di come si chiama di la scaletta vera è proprio di legno e così poi quando dobbiamo chiudere la farm non abbiamo più quel pensiero a questa situazione di qua di conseguenza torniamo qui leviamo anche questo di qua che non serve più chiudiamo giusto il nostro il nostro la nostra entrata ok questa deve essere la nostra altezza giusta dopodiché qui io mi hanno messo questo segnalino per indicarmi che la farm dovrebbe iniziare da qua per se per noi ci teniamo un blocco più indietro saliamo così potremmo lavorare dall'esterno senza 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 problemi dobbiamo salire ancora un poco non dovremmo andare a toccare la farm perfetto con calma è stanco e freddo ci siamo gli ultimi due blocchettini d'acqua che mi restavano da mettere sono questi di qua li andiamo a mettere uno qua e uno qua perfetto ok detto questo signori ora la parte seccante dobbiamo intanto chiudere tutti quanti questi lati che se uno avesse la possibilità di farlo in maniera veloce con lo schiocco di dita stavo cadendo malissimo sarebbe una cosa bellissima ma noi non abbiamo la possibilità di farlo con lo schiocco delle dita dobbiamo farlo a mano ma porca di quella maiala zozza impestata che ci viene a rompere le scatole ho perso tutto dove scazzano la so tutte le mie cose mi servono i blocchi da costruzione ecco bello un'altra botta sulle ginocchia mi servono i blocchi da costruzione mamma mia tutto a terra ma io dico ma posso essere così ma posso essere così ma io perché non tengo non tengo lo shift ammaccato perché voglio fare il giovane voglio fare quello bravo quello che sa giocare e invece io non so giocare porca miseria io non so giocare porca di una miseriaccia ahia la spada cosa ci fa qua sotto la spada la spada le mettila qua dov'è tutta la mia carne cotta ci abbiamo solo quella porca miseria cerchiamo di ricoverare tutto tutte le torce guarda tutto tutto esploso qua ma porca miseria ma porca ma l'ho detto ma porca miseria abbiamo fatto il ponte di terra così scappavamo velocemente ci siamo invece siamo scappati cadendo a terra guarda dove sono arrivate le mie cose e pensa su quanti altri alberi ci saranno là ci sono i miei secchielli porca miseria qualcosa l'abbiamo perso sicuro l'importante è non aver perso i blocchi da costruzione perché se perdiamo quelli non possiamo nemmeno ma io dico vedi gli imprevisti uno dice voglio fare il video in cui riesco avevo visto qualcos'altro galleggiare ecco le mie fornace voglio fare i video quelli semplici in cui veloci in cui costruisco facilmente neanche per il cavolo signori neanche per il cavolo non mi interessa io cado e mi ammazzo vabbè torniamo su signori vediamo se riusciamo a tornare su e a completare quantomeno la struttura signori in questo video ok signori rispetto al dove vi ho lasciato che ero praticamente morto mi sono portato un attimino avanti ho già fatto tre ho già riempito tre spazi rispetto a prima la sotto abbiamo dei visitatori che sono come i vecchietti dei cantieri sono venuti a controllare se i lavori procedono bene e la sicurezza sul lavoro che non c'è perché siamo caduti da un'altezza esorbitante e siamo morti male quindi sicurezza sul lavoro pari a zero detto questo signori continuiamo a mettere i blocchi magari in maniera giusta adesso tengo lo shift ammaccato signori non mi frega più non mi frega più tengo lo shift ammaccato ci stiamo 4.000 anni ma non mi interessa come direbbe il buon saggio non mi interessa facciamo i lavori giusti tra l'altro sta anche calando la notte io mi sono dimenticato di salirmi il lettino me lo potevo salire e invece me lo sono dimenticato non sono dimenticato come un pirla ok va bene quindi vorrei dire che dovremmo continuare a lavorare anche di notte l'importante è aver messo le torce non dovrebbe ancora spawnare nessuno ce la facciamo per sera ok piano 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 gli ultimi blocchi ok perfetto mettiamo un'altra docetta qua così illuminiamo e siamo più tranquilli ora altra fase pallosissima dobbiamo alzare tutto il di due signori tutto il di due quindi aspettate fatemi mettere un bel po' di blocchi io mi sa che ho esagerato con i blocchi perché ho tenuto la vecchia il modello del video che ho visto solamente che lui lo faceva faceva il tunnel centrale più alto quindi giustamente gli servivano molti più blocchi rispetto a quelli che stanno servendo a me quindi ce ne freghiamo altamente li utilizzerò per qualche altra cosa la cosa graziosa è che questa questo mob spawner ha questa forma con questo cono centrale e poi questa questa grande zona alta diciamo che allora io spero che il mondo spawner funzioni se funziona siccome è una petrata precisa negli occhi come debbbero i toscani un troiaio io direi che poi possiamo raccogliere tutte le foglie e mettercele tutte a giro di questa struttura no non devi mettere le torce devi mettere i blocchi possiamo mettercele tutte a giro signori in modo tale da farlo sembrare un albero ancora più grosso del nostro albero della vita ci potrebbe stare potrebbe essere un lavoro che non faremo sicuramente nei prossimi video perché fatto fatto questo penso che andremo a esplorare la miniera che ho trovato io nell'altro nello scorso sì nello scorso video non l'abbiamo mai trovato assieme quindi l'ho trovato io da solo giocando mentre cercavo di ricoverare il ferro che avevo perso morendo e però possiamo andare a fare questo così 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 che cosa così facciamo un video esplorativo torniamo all'esplorazione signori invece di continuare a costruzioni che costruzioni che sono tre video che andiamo avanti su questa situazione ok detto questo porca di una miseria infame allora io direi di mettere un blocco di legno qui così mi ricordo che io sono arrivato di qui così così poi ce ne possiamo tranquillamente scapere e aspetta però io sono arrivato di qui ma mi devo lasciare uno spazio per poi andare a uno spazio per come si chiama per per salire per chiudere poi tutto è giusto perché le torce le devono le passe dimentico le torce non abbiamo fatto nulla non è un mob spawner è una stanza è una stanza inutile allora dai 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 però noi prima di fare questo discorso del tetto dobbiamo ricordarci di mettere anche le botole perché se non mettiamo le botole anche questo è come se non avessimo fatto nulla di nulla dai 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 che ho preso il ritmo non con la torcia però dai che ho preso il ritmo signori ve lo ve lo ve lo concedo ve lo concedo taglio in questo video lo concludiamo questo mob spawner incrociando le dita sperando che funzioni taglio 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 veloce schiocco di dita e ci vediamo al prossimo step al prossimo step ci siamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta abbiamo completato il tetto che ho fatto alto 2 eh alto 2 in teoria dovrebbero tranquillamente eh spawnare tutti i mostri a parte gli enderman a parte gli enderman quelli non dovrebbero non dovrebbero spawnare allora dobbiamo tornare giù dobbiamo tornare giù perché 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 dobbiamo mettere tutte le botole signori dobbiamo mettere le botole questo lo facciamo assieme quindi eh sono scemo le botole già ce le avevo preparate perché ho messo la carta in table qui non si sa allora tutte le botole a giro devono essere messe tutte così tutte lungo il bordo perfetto sì io poi però riesco a metterla anche di qua così perfetto passiamo da questa parte mettiamo tutte le botoline così carine e coccoloce noi ricordiamoci che siamo venuti da quel lato di là quindi per non sbagliare le caliamo tutte a parte una così sappiamo che dobbiamo attraversare questo ponticello per tornare dal dove siamo venuti ok signori altro breve taglio schiocco di dita e noi siamo già pronti per signori una volta messe le botole penso che dobbiamo semplicemente levare le torce illuminare magari la palude là sotto così da non permettere lo spawn di mostri nella parte bassa e poi signori una volta ingrociate le dita vediamo una volta finite le botole vediamo incrociamo le dita e speriamo che che la la situazione funzioni dobbiamo semplicemente levare poi le torce che ci sono dentro mettere tante torce sopra e sotto e poi stop signori se funziona siamo contenti se non funziona avremo una struttura molto brutta nel nostro mondo che non serve palesemente a niente diciamo che fondamentalmente a noi interessa un discorso di esperienza se non funziona non 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 abbiamo che farci se non funziona siamo della merda detto palese palese papale papale e purtroppo si purtroppo si ok signora signori botole aperte torce elevate dove è il nostro punto di salvezza e qui leviamo anche questa perché signori saliamo su saliamo su di qui salutiamo regoliamo la torcina salutiamo il nostro mob spon dove cazzo non è il buco non è qua il buco no è più indietro oh mio dio voglio uscire mi fate uscire ok ce l'abbiamo fatta ok leviamo questi due pezzi di qua magari non con me dentro sarebbe già qualcosa di carino e coccoloso chiudiamo completamente tappezziamo di torce anche qui sopra come se non ci fossero domani io non sento mob e la cosa non mi piace per niente la cosa graziosa è se magari nel primo video qualcuno mi ha scritto guarda che questa mob spawner non funziona più e io ho continuato a farlo negli altri due video non leggendo i commenti perché ripeto ho continuato a registrare in maniera continua e questa sarebbe una cosa molto carina e divertente però lo vedremo tra un po' signori lo vedremo tra un po' scendiamo andiamo a illuminare anche la parte giù del mare che magari lì qualcuno può spawnare dopodichè incrociamo le dita e vediamo se arriva qualche mob lo vedremo lo vedremo assieme ok signori allora io ho illuminato tutto diciamo abbastanza anche sotto torniamo su qui oh qui dio si è ringraziato la lava è arrivata la lava signori è arrivata quindi recuperiamo un secchiello di lava e prossimamente faremo anche questa situazione di qua non adesso perché non ne voglio più sapere nulla torniamo a casa andiamo a dormire e speriamo di trovare almeno uno almeno un mob poverino che magari ha perso se ha sbagliato strada e si è andato a infilare lì dentro andiamo a dormire signori da qua non vediamo nulla perché c'è in mezzo la nostra libreria e non capiamo assolutamente nulla se siamo riusciti oppure no continua a piovere ma io mostri là dentro non ne vedo signori qualcosa mi dice che abbiamo sbagliato qualcosa nella costruzione perfetto detto questo signori non me ne frega assolutamente nulla io vi ringrazio per la visione di questo video vi ringrazio vi saluto e vi chiedo di continuare a supportarmi nonostante questa grandissima cacata che abbiamo fatto enorme a casa nostra però va bene detto questo signori grazie per i like per i commenti per i suoi giudimenti noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bello raga ciao ciao